Nell'episodio precedente Dai Ezio! Sinistra! Tu non sai chi c'è dietro Nessuno Sa chi c'è dietro Io non so dove devo andare adesso Devi ritornare dall'altra parte Eh il problema è che devo andare di là io No c'è un'altra strada anche in là Non conviene me lo troverei davanti Me lo troverei davanti Devo aspettare che vada Ragazzi un attimo di tregua Perché il mio cuore fede pietà Io invece mi sto dormendo Scavalca Scavalca Con estrema agilità Ti ricordi le nostre esperienze Ok Dove è andato? Stai andando dalla parte rosa Ma perché li vedo? Perché devi fare il Se non ti vede tipo Avete un rischio ricordatevelo Questo video gioco Questo video gioco Se fosse la vita reale Io ti puoi me ne starei Io starei nascosto in un angolo a morire Aspettami cosa c'è? Ho bloccato con la mia nebbia No c'è la nebbia E sui miseri Mi ha sentito Ha fatto Roma ha fatto Roma ha fatto Eh si se non chiudi anche la porta Se è pure peggio Devo correre E dovresti Attivare la valvola magari Devo correre Salvataccio Salvataccio No è sfiga Adesso riparti sempre con questo blocco accanto al culo No No Zitti ce la faccio Ce la faccio Ce la posso fare Ce la posso fare Via 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 iosi Che Beh In fronte ma è soffocato l'impappunto per quello l'impappunto che roba nilla il mio impappunto ha fatto morire la telecamera l'impappunto per quello l'impappunto che roba nilla si è suicidata possiamo proseguire con la autostra non ho le cuffiette toccaros toccarosso toccarosso no io mi sono preso il mio bellissimo infarto ma cosa sono tipo io mi sono sentito lui si è riuscito a spaventarsi conoscendo tipo il gioco tipo non devo salire qua tranquillo no per tipo non si sa mai quella lì mi salta addosso magari si suicida capito adesso alla tua testa cerca un'uscita dalle fogge beh sulla mia sinistra non si va di su ma che è non stanno uccidendo nessuno tranquillo ma io vado qua su l'impappunto le dite che non vuoi dite di tenerla su o la telecamera ma non ciò ma non ciò per me lo fa l'infrarossi ho provato di mio erano però quando non ci si non mi sta facendo fu una processione al diavolo non è un'altra c'era una batteria ho anche a più o meno c'è un punto delle batterie a quel giro dici togliere gli infrarossi non le vedi se no questo qua ti può fare il venditore ambulante ci avrà una batteria eh una pizza margherita quattro stagioni e se il cuoco è lui ma anche o no è romano no ne abbiamo poche e devo andare a prendere eh ma da quelli che vanno a processo ma mica hai detto di andare dritto di aspetta aspetta Matteo non c'è niente non c'è niente eh mi sembravo devo andare avanti di la a cercarlo eh si perchè non vai tu no vado io ormai ma perchè uccini ecco qui secondo me è chiunque eccola lì io ho paura no guarda ma è un poliziotto non puoi sapere ma niente non si sia mai ecco perchè naturalmente le persone che c'erano uno non si sono mai vive eh eh ho fatto una corsa risperata verso la tua miglia invece me ne ci sessuali sono sempre tutti vivi esatto tutti vivi stiamo bene anche la videocamera io no salvataggio non mi piace questo facciamo un bagno andiamo dalla parte delle ragazze perchè naturalmente il cicciono non può andare dalla parte delle donne perchè è un maschio con un fattore mascolino chiuso immagino andiamo dei bei maschioni col fattore mascolino e quindi quindi indovinate chi deve andarci wow wow tutto normale tranquilli che cosi è suci piovono morti dal cielo e amore facciamo una doccia per purificarci diamo acqua di merda come noi perchè c'è gente pezzi di gente attesa in giro questo è alto c'è un camice sull'uomo no grazie invocatelo ho già steso stamattina invocatelo forse è meglio se carichiamo più nemmeno ma prima che tu sai chi è ecco io l'ho nominato dove arriva per il conto ho sentito brutto amore non me ne frega proprio non ci serve una porta si ma chi se ne frega no ci sono in giro qua eh giuro rosso se c'è qualcuno è chiusa è chiusa è chiusa è chiusa ma basta provare ecco ma io penso che uno di quelli che ci sta guardando vorrebbe tentare non vedo niente vabbè aspetta un attimo non c'è un po' più è intanto che vado dritto adesso si è pagato contro muro tipo avanti anni finito vorrei ricordare ragazzi che se finite le batterie avete finito anche di giocare ad out sì più o meno io ho molto no arriva qualcuno che non ho ancora capito che vuole coca rosa adesso grazie mille ma se uno prosegui e perchè questo pezzo se lo ricorda bene questo me lo ricordo troppo bene che tipo ci abbiamo perso gli anni a farlo e tipo 70 anni di vita e poi alla fine quindi io non ci arrivo tantissimo ho avuto culo perchè tipo spiderman qua aveva perso i poteri per 3 secondi e spiderman e questi poteri qua non ci arrivano peccato dopo toccherà a tantissimo naturalmente ma dopo finirà le figgioni ahahahah salve dammi la mano dammi la mano non te la rubo ma che bocca c'ha ma non c'ha la bocca come fai a mangiare infatti muore ma non mi fa la mentira parma è bloccati il mio si abbiamo finito no io voglio gioca non siamo qui per giocare siamo qui per giocare stiamo giocando stiamo giocando e' meglio che non la dico questo ecco si è venuto a testo non abbiamo capito tutti e voi non lo stai facendo sto cercando di salire però se come alzate auguri insomma c'è simbolo di quattro e' un po' per favore 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 soffrirebbe di meno si decisamente però non ha sofferto ancora no no solo buttalo giu' no come sembra certe volte l'apparenza inganna ragazzi ma in questo caso no hanno anche le battute ne ho sentito non me le scrivo cioè io si guarda l'effetto qua sotto guarda io controlla quello che stiamo facendo lo sai come preferisco dire lo sai che a me è anche il movimento di una piccola formichina quando si trattola si vede che passa una formica meum no è che fa meum certo e se voi lo sapete le formiche fanno meum come il dama salvataggio io direi che ci possiamo versare decisamente mi tolgo anche l'auricolare perchè se no diventa sordo dalla parte destra io brucio e' prossima volta brucerò il computer ok così perdiamo il salvataggio esatto che dire quindi ragazzi mi piace mi piace iscrivetevi e sostenete la serie perchè se no non la continuiamo quindi tanto non la continueremo lo stesso c'è 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 c' detective stellar, detective, detective, madonna santa, detective stellar, non suona poi così tanto male, è loro detective stellar, la scena del crimine, la scena del crimine ci sta chiamando, mi si sta impastando la lingua